perfetto, anche la registrazione è partita, quindi direi che ci siamo ce la siamo cavata in qualche maniera, via chiudo solo un po' di schermate per non far casino, perfetto bene, allora partiamo di qua nessun problema, cerchiamo di riprendere o meglio, ricominciare faccio solo entrare gli ultimi poi dovremmo esserci praticamente tutti voilà, bene, se qualcuno arriverà ancora lo inseriremo cammin facendo allora, come vi dicevo difesa non è un fondamentale, è una tecnica per poterla gestire abbiamo vengono utilizzati alcuni fondamentali che possono essere più o meno codificati come andremo a vedere anche attraverso altri altri video di supporto che vi mostrerò di certo abbiamo bisogno di alcune caratteristiche che ovviamente dovremmo implementare in maniera importante soprattutto per quanto riguarda le capacità di performance del nostro atleta quindi capite che non essendo unicamente legata ai fondamentali la capacità di movimento, quindi le skills, le abilità di quelle che sono i nostri ragazzi diventeranno determinanti e di certo necessaria è una capacità di anticipazione motoria cioè la capacità del sistema di leggere la traiettoria eventuale del pallone e o anche dell'alzata del palleggiatore avversario per poter prendersi dei vantaggi in termini di spostamento per farci trovare pronti a rispondere alla fase d'attacco avversario necessiterà di sensibilità di rimbalzo perché ovviamente nel momento in cui pratichiamo il nostro sport sappiamo fin da subito che il pallone non può essere trattenuto quindi di certo essendo il giocatore implicato non unicamente attraverso quelle che sono delle tecniche canoniche ma dovrà essere capaci di far rimbalzare il pallone come vedremo su buona parte del corpo dovrà essere adeguatamente sensibilizzato a proporre un rimbalzo favorevole che possa permettere l'intervento di un compagno della propria squadra per far proseguire l'azione non da sottovalutare la capacità di tipo condizionale uno perché come vedremo poi in particolare nella seconda parte della call condiziona la capacità di spostamento rapido abbiamo una diretta correlazione tra quella che le capacità meccaniche condizionali e la forza e la rapidità espressa all'interno della fase di spostamento in più vedremo quanto i giocatori tendono a flettere le ginocchia a intervenire e lavorare ad angoli chiusi per quanto riguarda la flessione della gamba propriamente dette della coscia quindi la flessione del ginocchio e tanto più l'angolo di incidenza è serrato tanto più la capacità di forza da esprimere per essere in grado di fare dei movimenti e uscire da quella posizione dovrà essere accentuata in più abbiamo anche un discorso chiaramente di reattività che è un po' legata anche alla capacità di cognitive e coordinative che abbiamo analizzato ed esplorato la passata settimana quindi la capacità del sistema di avere delle risposte codificate e pronte e quindi avere un impulso elettrico abile efficiente e sufficientemente rapido per fronteggiare degli stimoli che sono certamente vicini ad alcune situazioni ma pur sempre diversi l'uno dall'altro mettiamo fin da subito alcuni dettagli tecnici che determinano la qualità e l'efficienza della difesa stessa questo video come al solito ve lo carico su Moodle e lo avrete con tutti i dettagli anche con l'audio disponibile per sentire i dettagli tecnici proposti dalla professoressa Gobbo per quanto riguarda questo per questa riguarda questa nostra analisi quello che più mi interessa è mostrarvi il dettaglio del presalto di difesa o dello split spesse volte il giocatore dovrà spostarsi ma appena avrà raggiunto la posizione canonica diciamo quella che a sua arbitraria analisi sarà quella corretta per rendersi disponibile a gestire il pallone verrà effettuato quello che viene definito split o presalto di difesa che è semplicemente un posizionamento come vedete di un saltello dove l'elevazione è praticamente nulla ma la posizione dei piedi alla larghezza delle spalle con peso del corpo sbilanciato sulla parte anteriore sul dell'avampiede gli permette di sincerarsi di essere immobile almeno in fase di partenza per poi organizzare l'intervento ora al di fuori della della condizione di di intervento che andremo ad applicare quel tipo di spostamento diventa determinante quindi sincera il fatto che si sia arrestato e l'organizzazione del colpo di difesa della tecnica di difesa venga effettuato perfettamente in condizioni stabili stabili ma reattive perché ponendosi sulla punta spostando il piede scusatemi il peso sull'avampiede e il momento di precarico tendinio più favorevole per quanto riguarda l'uscita e la rapidità di intervento quindi in tutti i casi c'è questo presalto dove il giocatore si arresta per organizzare la risposta vediamo che cosa può essere può succedere diciamo come punti critici dell'intervento una delle criticità di certo è la lettura della situazione quindi quanto bravo è il giocatore a ipotizzare quale sarà il tempo quindi la rapidità del pallone che dovrà andare ad impattare e la zona in cui il pallone andrà a cadere questa capacità assolutamente legata a doppio filo alla capacità coordinativa di anticipazione motoria è una delle parti determinanti determinanti a quella che è la risposta positiva o meno della fase di difesa una volta letta la situazione abbiamo da applicare un certo tipo un quoziente di spostamento un quoziente in cui il il giocatore dovrà organizzare al meglio la transizione per poi effettuare quello che abbiamo visto in fase isolata secco lo split di arresto per andare poi all'ultima condizione che è quella dell'applicazione della tecnica cioè organizzare un rimbalzo del pallone stesso per permettere il proseguo dell'azione è chiaro che tutte e tre queste caratteristiche diventano determinanti per la buona riuscita dell'azione stessa quindi tanto più sono bravo ad anticipare a leggere la condizione tanto più sono qualitativamente positivo nella transizione tanto più tempo avrò per organizzare la tecnica di rimbalzo che come abbiamo detto in precedenza non è codificata unicamente sui fondamentali ma è altresì determinata dalla capacità di sensibilità del giocatore di proporre un rimbalzo positivo all'attacco vi mostro alcuni video per capire meglio che cosa intendiamo con capacità di difesa ora è ovvio che in come diciamo peculiarità in particolare del ruolo stesso il libero è il giocatore normalmente più specializzato e qualitativamente più preparato a questo tipo di azione quindi andiamo di fatto a fare un'analisi su su quelle che sono alcune azioni dei liberi più forti diciamo del mondo ecco maschili e femminili intanto vedete che campo avversario maglia nera c'è un giocatore con la maglia rossa e altresì da questa parte abbiamo una squadra in maglia rossa e il giocatore con maglia nera facile individuarli perché hanno il colore della maglia diverso una sorta di identificazione come fosse il portiere nel calcio vediamo come si sviluppano le variazioni intanto sappiamo che c'è una fase di ricezione che è la condizione in cui la squadra si oppone al servizio guardiamo cosa sta per succedere attacco da posto uno il libero il libero oppone la sua prima difesa di rimbalzo il rimbalzo ripropone un nuovo attacco ora tanto ci guardiamo l'azione 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 di per sé poi sarà a rallenti per vedere i dettagli nuova difesa da questa parte del campo murata finale guardate cosa succede qui inizia l'azione quindi siamo in fase di ricezione il giocatore è in mezzo al campo presalto di difesa arresto e impatto del pallone l'impatto non avviene perfettamente sul bagger nel senso è un sì certo è un'azione simil bagger ma non è proprio un bagger del fondamentale canonico fase nuovamente di spostamento nuovo presalto e di nuovo si lascia colpire portando il pallone in disponibilità ovviamente l'attacco è talmente forte che ritorna nel campo avversario organizza uno spostamento perché l'azione si sposta dall'altra parte nuovo salto altra tecnica opposizione a braccia alte anche questo libero si oppone come può opponendo col torace il rimbalzo del pallone e poi l'azione si conclude azione di ricezione questa è un'altra palla non è la stessa anche se è molto simile altra azione di difesa in tuffo ma poi ne vediamo un'altra nuova difesa molto simile sempre sulla stessa traiettoria e poi va bene errore in attacco riguardiamo il rallenty questa è la ricezione nuova azione vi ricordate anche qualche settimana fa quando vi dicevo che ogni azione ogni giocatore ha le sue peculiarità qui abbiamo visto cinque attacchi praticamente quasi tutti quattro attacchi da parte dello stesso giocatore che vanno a finire praticamente nella stessa zona di intervento dell'attaccante la cosa da notare appunto è la situazione che non è perfettamente organizzata sotto un punto di vista prettamente tecnico nel fondamentale del bagger quindi non abbiamo l'estensione completa dei gomiti l'anteposizione delle spalle viene proposta una parte molto istintiva in cui il giocatore oppone le parti del corpo nella maniera più funzionale possibile a quelle che è l'azione a cui si porta a fronteggiare capite bene che siamo su frazioni di secondo quindi la capacità di reattività di qualità decisionale nella frazione di tempo diventa determinante soprattutto la qualità di gestire il rimbalzo anche con tecniche diverse avete visto alcune tecniche di rimbalzo sull'avambraccio alcune a braccia a braccia alte su palloni molto forti però diventa determinante appunto la capacità intrinseca motoria del giocatore stesso non tanto influente è la parte della diciamo puramente tecnica in quest'altro video andiamo a guardarci una carrellata invece di difese acrobatiche dove altresì qui si va a inseguire di fatto il pallone va a scadere un po' il discorso dello spostamento dell'arresto e della gestione tecnica del rimbalzo del pallone qui si va su una condizione ancora più estrema dove il giocatore legge la traiettoria del pallone e si propone inseguendo il pallone con diversi tipi di tecniche che sono tecniche ancora più estreme qui siamo ancora più in ritardo normalmente questa tecnica vedete è caratterizzata su palloni più morbidi in particolare ad alto livello il pallone in attacco viene viene schiacciato molto violentemente le variazioni determinano alcune tipi di risposte che sono totalmente figlie del singolo giocatore della soggettività del singolo giocatore che organizza una fase di tuffo per difendere e proporsi sul rimbalzo del pallone stesso possiamo distinguere tutte le parti del corpo vengono chiamate in causa possiamo distinguere le azioni in tuffo in tre grandi categorie una quelle che abbiamo appena visto in questo frangente il rimbalzo mentre il pallone è ancora per aria quindi nella fase di volo il giocatore va ad impattare il pallone e due questa questa azione qui dove il giocatore invece ancora più in via estrema va a mettere la mano al di sotto del pallone per fronteggiare il rimbalzo ed evitare che tocchi il pavimento questa tecnica gli americani la chiamano il pancake ed è una tecnica estrema di difesa applicata in maniera su palla diciamo pallonetto piazzato quindi abbiamo visto qualità diciamo spostamento e arresto su una condizione forte di attacco forte da fronteggiare dove la qualità del rimbalzo dipende dalla traiettoria del pallone perché io non potrò organizzare grandi spostamenti nel merito oppure la capacità di lettura e spostamento e tuffo su una condizione ancora più estrema su palla piazzata è evidente che la capacità del soggetto di anticipare leggere e organizzare la risposta in maniera canonica diventa determinante e predominante sulla qualità del fondamentale stesso inteso fondamentale inteso come il bagger di difesa per dire siamo chiaramente figli della sensibilità del soggetto che interpreta esiste un'altra condizione tipica della pallavolo femminile che propone un altro tipo di proposta e di atteggiamento di difesa beh intanto qui stiamo andando a vedere alcune azioni femminili è un video dedicato al libero ma in realtà non c'è solo della difesa ma ci sono anche dei altri fondamentali che noi bypassiamo fino a qui diciamo che abbiamo delle condizioni abbastanza simili condizioni su palla forte che ci propongono una condizione di lavoro abbastanza simile a quella degli uomini la tecnica tipica delle donne vi ricordo che il libero è quello con la maglia diversa è quella che state per andare a vedere che viene definita anche rullata guardate il libero si appresta colpisce il pallone ruota sulla spalla e si ritorna in condizione diciamo di stazione retta ruota sulla spalla e torna in condizione di stazione retta i giocatori uomini tendenzialmente usano un'altra tecnica anche da qui si nota si nota forse ancora meglio in questa seconda azione guardate l'azione del libero in maglia rossa ruota e ritorna con una sorta di capovolta in stazione retta questa tecnica si differisce da quella degli uomini perché normalmente gli uomini su palla estrema di difesa estrema tendono a tuffarsi frontalmente battendo con il torace a terra le donne probabilmente anche in protezione del seno lavorano sulla sulla rullata girando sulla spalla lateralmente guardiamo ancora un paio di azioni anche però vedete che in certi frangenti anche il giocatore propone il tuffo frontale seppur donna Monica De Gennaro probabilmente il libero più forte del mondo in questo momento italiano vediamo un po' se c'è ancora una differenza palla forte vedete sempre che le tecniche sono assolutamente non codificate sono figlie della condizione dell'azione stessa riguardiamo questa cosa qui però sul primo attacco guardate l'angolo del ginocchio quanto va a flettersi sulla prima palla palla forte ginocchio destro molto flesso a quei gradi di flessione la forza è un fattore determinante per la qualità della uscita da quell'angolo ora senza addentrarci oltre nella questione avete abbastanza capito quale sia l'universalità e la condizione totalmente random della gestione di questo fondamentale e tiriamoci qualche conclusione sopra possiamo tranquillamente dire che a parte il fatto che ormai tutto lo sport di alto livello va incontro ad altissima specializzazione e seppur il fondamentale di difesa debba essere conosciuto e interpretato da tutti i giocatori di certo la specializzazione è elevatissima per quanto riguarda il libero tant'è vero che qua vi ho messo come nota di diciamo di interesse più che altro anche come dire curiosità siamo di fronte ormai anche ad altissima specializzazione che prevede un giocatore un libero disposto nelle fasi di difesa e un giocatore implicato unicamente nelle fasi di ricezione cioè un giocatore che si oppone agli attacchi avversari è un giocatore che si oppone al servizio quindi il giocatore in cambio palla è un libero il giocatore in difesa è un altro libero come avere due portieri diversi come ci siamo detti e come anche abbiamo visto dalle immagini la componente fisica sia condizionale che coordinativa è dominante sulla capacità dei fondamentali quindi essere bravi essere allenati come atleti alla condizione rende più probabile l'intervento positivo in questa determinata tecnica e se parliamo come nel caso della pallavolo sport specifico di uno sport ad alto punteggio diventerà altresì importante perché perché differenza tra sport ad alto punteggio o a basso punteggio la condizione in cui io riesco a limitare la condizione più frequente è quella che mi avvicina di più alla vittoria e questo avviene in qualsiasi tipo di sport sia ad alto sia a basso punteggio nella pallavolo è favorito l'attacco rispetto alla difesa se io difendo un pallone in più sono più incidente sulla possibilità di vincere la gara esempio al contrario nel calcio dove difesa ha la predominanza di importanza per quello diciamo di incidenza alla vittoria tra virgolette della situazione contrastante sono più determinante se segno un gol perché se ne segnano pochi sport a basso punteggio in uno sport ad alto punteggio essere forti e condizionati e abili a gestire questo tipo di condizione di certo ha una fortissima incidenza per quello che è il la possibilità l'innalzamento della possibilità di portare a casa la vittoria molto semplici i punti poi determinanti sono quelli della capacità condizionale dominante capacità condizionale coordinativa dominante su quella della tecnica del fondamentale la capacità di anticipare la capacità di essere attivi di spostarsi rapidamente di certo sono predominanti sulla buona riuscita finale questo è il punto che mi preme mi preme sottolinearvi abbiamo visto anche quanto sia dipendente dalla capacità di rimbalzo dell'atleta stesso quindi quanto l'atleta riesce sia a organizzare una risposta corretta in funzione allo stimolo quindi leggere bene la condizione e proporre in maniera del tutto arbitraria un'interpretazione personale di quello che è il salvataggio sia su palla forte addosso essere in grado di opporre una superficie del corpo adeguata per far rimbalzare in maniera positiva il pallone per quanto riguarda la parte sul fondamentale mi basta questo di certo e vinciamo che la la capacità di essere condizionati positivamente sotto il profilo fisico sarà determinante per avere una buona probabilità di essere più forti in questo fondamentale che tra l'altro può essere determinante ai fini della performance ora ci spostiamo su quell'altro tema di giornata che è sì collegato anche se con peculiarità un po' diverse che però è quello della rapidità dello spostamento ogni sport in particolare situazionale ha di certo un forte grado di incidenza legato a quanto io sono bravo a muovermi rapidamente e allora partiamo come al solito da un quesito per voi e voglio sapere qual è la vostra posizione cosa ne pensate e vi chiedo che cos'è la velocità come si allena e soprattutto se è migliorabile che ne pensate qualcuno mi scrive in chat che cos'è la velocità come diciamo se si può allenare qual è il nostro grado di intervento e se di fatto possiamo influenzarla ecco questo è il punto siamo capaci di influenzare oppure è una situazione del tutto di base di fatto congenita da parte dei nostri atleti quindi un atleta veloce è veloce e un atleta lento resta lento nel minor tempo possibile capacità di eseguire un compito mondiale nel minor tempo possibile benissimo certo abbastanza lineare cosa ne pensate sulla sul discorso dell'allenabilità abbiamo dei dei frangenti o perlomeno abbiamo un margine di manovra o no secondo voi riusciamo a influenzarla positivamente o no secondo voi allenabile io mi ricordo che mi sento prof si si ti sento che mi pare che nell'allenamento della velocità è importante con quei tempi di recupero e che si faccia nella prima parte dell'allenamento in modo tale che avendo un recupero completo si possa esprimere al massimo la velocità esatto questo senz'altro è un allenamento come vedremo qualitativo nel senso che per allenarmi alla velocità devo esprimere la mia massima velocità possibile quindi devo essere fresco devo essere reattivo devo essere pronto ad eseguire però dobbiamo un po' come al solito secondo voi è facile o difficile incrementare la velocità a un atleta? Opinione oppure esperienza su voi stessi o su dei ragazzi che allenate facile o difficile? dai opinione ma proprio tranquillamente nel senso qual è il vostro vostro credo qual è secondo voi cioè è una situazione che è abbastanza rutinaria e si può fare abbastanza senza problemi oppure complicato dalle caratteristiche ci sta Federico ci sta certamente le caratteristiche hanno un fattore altri facile o difficile molto semplicemente scrivete pure proprio facile o difficile oppure non lo so quello che quello che che avete proprio come opinione difficile 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 può influire il peso? certo che sì ovviamente sì però posso fare un appunto? certo io vengo dal mondo della palacanestro quindi ho giocato con magari gente che faceva ruolo del centro magari alti anche due metri due metri zero e cinque certo e lì allenare comunque la velocità è un un fattore importante però non è non è incidente al massimo dipende appunto dal ruolo e dalle caratteristiche fisiche del giocatore e del suo ruolo nella partita senz'altro se certamente possiamo però dire che se anche un centro o in fase difensiva o in fase o anche diciamo in dominanza diciamo di attacco se è più rapido nel quoziente di Santos seppur normalmente è quello che ha il fisico più importante se vogliamo anche se guadagna un centimetro di salto è comunque un fattore positivo sì sì ovviamente anzi magari è proprio il fattore in certe dinamiche può essere anche il fattore dominante in altre dinamiche magari potrebbe essere più importante che ne so la tecnica di tiro dal post assolutamente però assolutamente se vogliamo qualcuno ha alzato la mano parla pure chi vuole parlare inseritevi pure mi è arrivata una notifica magari qualcuno ha sbagliato oppure qualcuno ha qualcosa da dire è ovvio che nello sport abbiamo certo che ci sono lì andiamo poi su un altro un altro frangente ancora che è la priorità ci sono delle cose che sono prioritarie bisogna fare quello che è più prioritario cioè se come giustamente tu dici porti l'esempio del giocatore che fa il centro è come dire se faccio il pilone nel rugby è ovvio che la forza fisica è più importante rispetto a quello che è la dominanza veloce se però io sono anche veloce ho un quoziente ho un plus per il ruolo logicamente ci sono delle peculiarità questo senz'altro senza ombra di dubbio questo è di certo una componente di di scelta proprio di tattica anche proprio di impostazione comunque diciamo che siamo abbastanza non so se qualcuno ha alzato la mano per sbaglio ma se qualcuno deve intervenire intervenga pure non ci sono problemi ovviamente di fatto è ovvio che cioè è ovvio siamo tutti d'accordo che è una condizione comunque difficile ho sbagliato non ti preoccupare ma comunque volevo provare una domanda lei con velocità intende anche rapidità in questo caso andiamo questa te la lascio un attimino appesa perché anche lì bisogna classificarla la velocità nello sport in particolare probabilmente è più importante l'agilità della velocità però se vi ricordate quello che ci siamo detti l'altra settimana l'agilità che cos'è? è velocità e coordinazione quindi è comunque un fattore influente ok? non è è una delle componenti tanto più sono veloci e coordinato tanto più sono agile tanto più sono agile nello sport essere agili è sempre una cosa mediamente positiva casi specifici a parte ok? comunque siamo su una linea ti ripeto di condizioni difficili e più le condizioni di intervento sono complicate tanto più noi dobbiamo essere strutturati e metodici nella nel nostro intervento perché se devo fare una una miglioria su una condizione più complicata ho bisogno di essere più preciso più puntuale più dettagliato più diciamo proprio selettivo a carico degli stimoli da applicare al corpo per far sì che questa cosa avvenga comunque sì abbiamo un quoziente di di intervento una definizione molto diciamo da campo in generale anche proprio sulla quasi la 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 ricondurrei a una quasi definizione in fisica no? cioè la velocità è definita come la variazione della posizione di un corpo in funzione del tempo in più se vogliamo è una grandezza vettoriale comunque in fondo è esattamente quello che ci siamo già detti ampiamente in chat e a questo punto dobbiamo capire come classificarla per essere poi in grado di andarla a indirizzare a far flettere gli stimoli in funzione di quella che è la nostra esigenza abbiamo alcune capacità cioè diciamo alcune classificazioni internazionali che possono essere proposte questa è una di quelle e abbiamo una velocità reattiva cioè la capacità del sistema di fronteggiare uno stimolo che può essere noto o non noto però è la capacità di a fronte di questo di uno stimolo che arriva organizzare una risposta motoria facciamo un esempio stimolo noto starter dell'atletica leggera io so già che allo sparo devo partire tanto più sono in tempo di latenza veloce ad accendere il primo passo tanto più la mia velocità di reazione sarà qualitativamente buona velocità reattiva stimolo non noto può essere il difensore nella pallavolo sono reattivo a uno stimolo so che arriverà un pallone nel mio campo non so né come né dove né a quale intensità né se arriverà nella mia disposizione se questa situazione avviene io devo organizzare la risposta risposta a uno stimolo non noto abbiamo poi la velocità di frequenza la velocità di frequenza è la capacità del singolo atleta di fornire un aumento di frequenza di un dato schema di movimento correre con una frequenza di passo più elevata pedalare ad una frequenza più alta il nuotatore che circonduce le spalle in maniera più rapida velocità di frequenza normalmente la velocità di frequenza è legata a una certa ciclicità quindi sport ciclico tanto più ho una frequenza di appoggio ovviamente in relazione anche all'ampiezza degli appoggi stessi tanto più ho una frequenza di appoggio elevata tanto più probabilmente correrò in maniera rapida ovviamente siamo sempre su un rapporto di ampiezza di passo ok se la riportiamo sulla pedalata se la portiamo sulla canoa se la portiamo dove vogliamo su uno sport ciclico è probabile che alzando la velocità di frequenza io avrò un frangente positivo tipico degli sport ciclici abbiamo poi una velocità attiva che si avvicina sempre di più a quella che è la proposta degli sport di squadra inteso come non è che nello sport di squadra basta che corro veloce in linea devo essere bravo a frenare cambiare direzione traiettorie curviline cambi diverso cambi angolari spostamenti laterali la velocità attiva è questa condizione la capacità del sistema di iniziare ad avere un certo tipo di combinazione motoria durante la transizione quella viene definita velocità attiva tanto più riesco a coprire in maniera adeguata la la traiettoria che devo percorrere in maniera efficiente tanto più sarò bravo a a fronteggiare e veloce nel fronteggiare questa questa risposta in maniera efficiente e poi abbiamo l'ultima che è la velocità complessa che non è nient'altro della somma di tutte le precedenti e quella che noi possiamo anche definire con agilità perché perché devo avere una velocità reattiva in funzione di uno stimolo che succede intorno a me dovrò di certo avere una frequenza di passo rapida adeguata per per fare la transizione per spostarmi all'interno del mio campo da gioco dovrò essere bravo a gestire questo spostamento quindi selezionare magari qual è diciamo la scelta motoria più adeguata in funzione di quella che è la direzione che io devo assumere e a tutto questo nella complessità devo poi avere tutte quelle che sono le condizioni correlate a uno sport di squadra quindi conoscere la posizione dei miei compagni conoscere la posizione dei avversari analizzare le profondità proporre il gestire il pallone o lo strumento se ne se ne prevede uno smarcarsi attaccare gli spazi tutte capacità che riconducono a una condizione di complessità di analisi e coagulano in un'unica abilità tutte le componenti precedenti sono influenzato da tutte le componenti precedenti e tanto più sono efficiente sulle varie componenti tanto più il risultato finale probabilmente sarà positivo questa è quella che possiamo anche ripeto ricondurre alla agilità che probabilmente è ancora più importante della velocità di perseguire bene capito che cosa può essere diciamo caratterizzante una o più classificazioni diverse di questo termine ovviamente in termini pratici sportivi cerchiamo di capire quali sono i fattori influenti i fattori influenti ve li ho elencati qui e sono semplicemente semplicemente tra virgolette suddivisibili in tre grandi categorie abbiamo dei fattori neuronali abbiamo dei fattori strutturali e abbiamo dei fattori metabolici allora se parliamo di situazioni neuronali che cosa siamo tutto cioè logicamente siamo ci stiamo indirizzando verso una condizione di contrazione di intensità di contrazione di capacità di condurre lo stimolo elettrico per far sì che il distretto venga chiamato in causa in maniera corretta quindi il fattore neuronale che cos'è? è la capacità del sistema di erogare in maniera veloce lo stimolo elettrico per far sì che la contrazione avvenga tanto più la contrazione avviene in maniera rapida repentina puntuale veloce precisa federico aspetta che leggo velocità di connessione perfetto la velocità di connessione mente muscolo per svolgere il movimento velocemente esatto è proprio quello tanto più neuralmente conduco veloce tanto più avrò una risposta in termini in termini di tempo tendente verso più lo zero tanto più sono rapido meglio è e secondo voi quali sono per esempio dei fattori strutturali che incidono sulla prestazione di rapidità o velocità qualcuno mi prova a fare un elenco prova a dirmi delle idee strutturali quindi sono delle cose che fanno parte del nostro corpo della parte strutturale meccanica del nostro corpo che cos'è che può incidere componente tendine fibre muscolari composizione delle fibre perfetto esatto in particolare siamo su questi su queste grandi categorie tanto più avrò una componente tendinea confacente a quelle che sono le risposte in termini di diciamo capacità di rimbalzare no? molto banalmente tanto più sarò bravo e avrò una situazione positiva in quella direzione e invece con fattori metabolici che cosa intendiamo secondo voi? qualcuno che ci prova? metabolici poi tanto li andiamo a sviscerare nel dettaglio e soltanto per se ci arriviamo insieme le cose vi restano magari anche un po' di più ok? quindi con fattore metabolico che cosa secondo voi intendiamo? abbiamo analizzato la componente neurale cioè quindi quanto veloce conduciamo lo stimolo abbiamo analizzato la qualità dei segmenti che chiamiamo in causa che ci manca per far muovere ecco 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 bravo samuele giusto sono i diciamo le componenti di ripristino energetico qual è la componente di ripristino energetico elettiva e come possiamo poi andarla a influire logico che noi per capire allora ci siamo detti che la situazione è complessa ci siamo detti che abbiamo bisogno è difficile far migliorare qualcuno sul sistema sul sistema velocità e dobbiamo conoscere bene dove sono gli interventi per far sì che queste cose vengono a migliorarsi benissimo ci sono queste tre grandi categorie neuronale metabolica chiamiamola strutturale benissimo devo andare ad intervenire su quelle tre grandi categorie in maniera confacente all'obiettivo per far sì che ci sia un miglioramento generale di quello che è il problema se io riesco a migliorare la capacità di conduzione elettrica se io riesco a migliorare la capacità di rifrazione di essere capaci di spostarmi attraverso le mie strutture in maniera più veloce se io riesco a migliorare la capacità di fornire energia in maniera puntuale precisa al sistema probabilmente aumento la condizione di rapidità e velocità e indirettamente poi verso mi posso spostare poi verso l'agilità e quindi andiamo ad indagarli in maniera un po' più approfondita quali sono alcuni aspetti che sono di certo influenti su questa su questo grande fattore neuronale beh di certo la coordinazione intra e intermuscolare quindi parlando di gesti complessi l'interazione delle fibre all'interno dello stesso muscolo e l'interazione dei vari muscoli sinergici che ci portano ad essere più bravi più veloci più reattivi in un determinato movimento la capacità di allineare e far fruire in maniera più puntuale precisa e sincrona alle unità motorie e se ci pensiamo bene tutto questo è fortemente legato al carico ora se ci ragioniamo ve li ripropongo un attimo tutti questi tre fattori voi ormai al secondo anno quasi diciamo inoltrato delle scienze motorie possiamo dire che sono fattori collegati e altamente correlati anche all'allenamento della forza massima ve li ritrovate vi ritrovate che è la forza anche che fa queste cose qui non soltanto la velocità ma anche l'allenamento alla forza massima vi riconduce a quei quei parametri vi ritrovate sì o no questa cosa assolutamente ok ce l'abbiamo no quindi stessa cosa che richiama la componente condizionale quindi l'allenamento alla forza sembrerebbe avere un certo tipo di correlazione almeno in parte ad uno dei fattori quello neuronale correlato alla velocità però questo è un dato di fatto no che all'aumento del carico la velocità di spostamento del carico stesso si riduce e questa cosa ci va in conflitto perché noi ci siamo detti ok io mi devo muovere su schemi veloci mi devo muovere su condizioni più rapide condizioni più importanti sotto il punto di vista della della tendenza a zero del tempo è però se io aumento il carico aumentando il carico vado su delle situazioni positive coordinazione intramuscolare intermuscolare bla 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 però più aumento il carico più riduco la velocità e allora e allora bisogna trovare e scomporre ulteriormente e andare a capire come andare a fruire quella capacità di stimolazione quindi stimolo di alto impatto coordinazione neuronale importante per fruirla però nella direzione che ci interessa a noi che è quella della quickness della velocità qui interviene la situazione di potenza che non è nient'altro che la relazione che intercorre tra forza quindi uno dei fattori da allenare che interviene in una cosa importante come la potenza è di certo la base di forza in relazione alla velocità in realtà a questa v potrei anche sarebbe anche meglio correggerla e metterla in funzione del tempo quindi la relazione dell'applicazione della forza che ho a disposizione in un'unità di tempo breve questo fa tutta la differenza del mondo per chiarire per esemplificare in maniera proprio da campo facile il concetto tra forza e velocità facciamoci un esempio anche se vogliamo banale magari tutti quanti voi avete chiaro che qual è la differenza tra forza e potenza però ce lo facciamo anche per fugare ogni piccola ogni piccolo dettaglio a riguardante questa tematica che è importante se vogliamo allenare la velocità di per sé immaginiamo situazione banale che può essere tipo l'uscita da un centro commerciale di due soggetti uguali simili con il carrello della spesa carico con 50 kg distanza dalla macchina 20 metri il carrello è 50 kg per tutte e due la distanza dalla macchina è qui distante 20 metri un soggetto spinge il carrello e arriva alla macchina in 10 secondi un soggetto spinge il carrello e arriva alla macchina in 5 secondi banalmente i due soggetti sono forti uguali perché loro riescono a battere il carico dei 50 kg ma il primo è cioè scusatemi il secondo quello che ci mette 5 secondi è più potente applica il gesto in un'unità di tempo più breve questa è la potenza si costruisce sulla base di forza perché? perché le attività neuronali sono molto importanti perché il quotiente della capacità del sistema di esprimere una correlazione di quella che la conduzione elettrica è fondamentale per la conduzione dello stimolo rapido però in una seconda istanza in una seconda fase devo poi deputarlo a una contrazione più veloce a una contrazione che tenda verso lo zero quindi devo spostare il peso velocemente perché? perché è su quella condizione che si sviluppa potenza tant'è vero che la forza massima si misura in chili e la potenza in watt il wattaggio non è nient'altro che forza cioè chili su tempo questo è il punto focale di certo abbiamo bisogno di forza perché abbiamo bisogno di stimolazioni neurali altresì di certo non possiamo stare unicamente sul quotiente forza perché perché se no ad aumentare estremo della forza si riduce troppo la velocità e io finisco in un altro regime mi rallento invece di andare nella condizione in cui sto cercando di indirizzare il mio allenamento fattore neuronale si ma visto che sono strettamente collegate forze e velocità si possono allenare nella stessa situazione oppure sarebbe più opportuno no separatamente sono da allenare separatamente o da ciclizzare inteso come si fa un'attivazione a basso volume perché adesso poi vedremo un'altra cosa che caratterizza soprattutto quando tieni questa considerazione per quando parliamo della condizione metabolica perché una delle due ci crea un problema in generale per fartela proprio grezza da campo la forza massima è una è una forza stupida è una forza ignorante è una forza viene definita spaziale la velocità è una forza qualitativa è una forza di destrezza quindi ha una componente assolutamente qualitativa ora se proprio vogliamo su una forzatura metodologica si può fare ma prima fai la velocità poi fai la forza prendila così Samuele ok poi vedrai che parlando anche di 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 metabolico la situazione diventa un po' più chiara parliamo delle strutture beh qui avete già anche detto un po' tutto voi nel senso che ci sono delle componenti diciamo di intrinseche per quanto riguarda la conduzione elastica di stiffness e di complex quindi queste cose sono già cose che ci siamo già detti quindi la correlazione tra quella che è il grado di rigidità e il grado di malleabilità dei tendini fa sì che la situazione possa essere super confacente e assolutamente nel miglior rapporto possibile su quella che è la capacità di rifrazione del corpo di certo di certo l'energia elastica è legata alla condizione tendinea sappiamo che le fibre bianche hanno una capacità di contrazione e di reazione più veloce anche qui più confacente al grado della velocità non credo che ci siano tante altre cose da aggiungere poi ne riprendiamo un po' più tra qualche minuto in avanti parlando su come interveniamo vi mostro poi proprio anche un progetto di allenamento già costruito andiamo a vedere quali sono il terzo fattore influente i fattori di tipo metabolico il sistema di ripristino energetico che più dovremmo andare a stimolare e perché perché il sistema vabbè logicamente se parliamo di potenza rapidità non c'è credo grande discussione o seppur è vero che tutti i sistemi energetici vengono chiamati in contemporanea ad applicare il loro diciamo il loro aiuto per fronteggiare un movimento di certo quello predominante su una situazione di potenza e di certo l'aneerobico all'attacido quindi quello che ci siamo che vi ho già scritto anche qui siamo legati al ripristino della fosfocreatina quindi applichiamo un sistema che vada a incidere fortemente su quel tipo di carburante perché perché è quello che mi faccio l'arrabbi più perché è il carburante migliore per quel tipo di performance devo stare attento a lavorare metodologicamente parlando quindi sul campo proporre un allenamento che mi indirizzi fortemente verso quel tipo di carburante lì perché perché se io faccio una contrazione che perdura troppo a lungo nel tempo che succede succede che io accumulo dei metaboliti in particolare acidosi lattato è solo che l'acidosi e questo ci viene ci viene molto vicino nelle esperienze quando parliamo di prestazioni molto lattacide inteso come anaerobiche lattacide quindi quando la performance perdura per un certo tipo di tempo e io sento fortemente impattato muscolarmente il mio distretto quindi dopo un po' che corro a un alto impatto cosa succede le gambe iniziano a bruciare quello che cosa è figlio di che cosa dell'inizio dell'accumulo del lattato il lattato di per sé non è un grande problema se sono ai regimi corretti però di certo meccanicamente all'insorgenza del lattato io rallento e se io rallento mi sto allontanando dal quoziente velocità io devo essere certo di non avere accumulo di acidosi accumulo di lattato perché perché nel momento in cui sto andando in anaerobico a lattacido mi sto allontanando dal modello che è estremamente qualitativo ricordatevi sempre che velocità o potenza chiamiamola come vi interessa e acido lattico sono nemici dichiarati sono fattori che si inficiano l'uno con l'altro il perdurare della performance e l'accumulo di acidosi fa necessariamente rallentare nel momento in cui io sto rallentando io ho finito il mio allenamento alla velocità sto già sconfinando in resistenza alla velocità insomma altre condizioni che non sono quelle della massimale di potenza di erogazione di vattaggio possibile questo è il dato di fatto quindi stare attenti a indirizzarci qui nelle scelte metodologiche quindi essere molto precisi nei tempi a cui assoggettare l'esposizione del nostro atleta perché oltre un certo limite di tempo succede che l'acidosi inizia ad alzarsi e allora sto andando qui e non va più bene perché non sono più nella condizione di tipo massimale sempre riguardante la parte energetica e quindi di fruizione energetica del sistema abbiamo di certo da tenere in considerazione i tempi di recupero e i tipi di recupero tempi di recupero e tipi di recupero per far sì che il nostro atleta sia pronto a riperformare allo stesso grado di intensità massimale il estrinsecare tutto quello che è il suo potenziale quindi devo essere sicuro che abbia recuperato per far sì che ci sia una nuova performance massimale e devo far sì che la scelta del recupero in particolare attivo o passivo mi inderizzi in maniera discriminata verso quelle che sono le esaltazioni delle componenti metaboliche che vogliamo andare a chiamare in causa in questo frangente quindi molto per tirare un attimo le somme sui tre fattori principali essere capaci di indirizzare verso un allenamento preliminare di forza e poi deviare verso la potenza per quanto riguarda la parte neuronale essere capaci di esaltare le risposte tendine essere capaci di selezionare bene i tempi di esposizione e i tempi di recupero per far sì che il livello energetico sia quello più adeguato e sia soprattutto la componente più adeguata a far sì che ci sia una prestazione massimale quindi dobbiamo capire come facciamo ad allenare tutta sta roba e abbiamo in parte già trattato alcune situazioni in altre adesso ce le dichiariamo in via più che legittima e diciamo schematica per essere sicuri di fare una checklist di cose che ci sono da fare se vogliamo aumentare la velocità dei nostri atleti per implementare la forza diciamo la capacità strutturale neuronale abbiamo bisogno di un'impletazione della forza massima quindi abbiamo bisogno di stimolazioni che aiutino la coordinazione inter-intramuscolare la capacità di fruizione di scarica tutte quelle cose che ben sapete e probabilmente sapete già anche protocollare di per sé su quello che è l'allenamento della forza massima sulle componenti strutturali dobbiamo lavorare se parliamo del quoziente tendineo sulla capacità pliometrica inteso come la capacità di allenare e allineare al meglio il rapporto stiffness compliance cioè far sì che i tendini siano sufficientemente rigidi per rimbalzare ma non oltremodo rigidi perché se no si inficia la qualità del rimbalzo stesso però alla stessa maniera non eccessivamente morbidi perché se no non rimbalzano proprio allora la pliometria è il sistema elettivo per quello che è la componente di allenamento di questa struttura e poi rapportarci su un percentile della forza massima per andare a calcolarci quello che è l'ideale il carico ideale per indirizzarci verso la potenza potenza che non è nient'altro che un quoziente di spostamento di carico su una velocità tempo tendente a zero questo cosa fa va a intervenire su quelle che sono le fibre bianche quello che avete detto anche voi e poi la parte metabolica essere certi di lavorare in anaerobica o lattacido scegliere tempi di lavoro e scegliere tempi di recupero che ci sincerino di stare in quella in quel distretto in quella casella lì in quel da quel benzinaio lì non andare da altri vi mostro un esempio molto 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 semplice semplicistico anche se vogliamo di allenamento strutturato sotto dei crismi che soddisfino esattamente quello di cui abbiamo parlato fino ad ora allora parte pliometrica perché perché qui andiamo a calzare sulla componente tendinea saltelli in stiffness con delle peculiarità molto facili cioè poi gli atleti non fanno gli atleti fanno gli atleti mica fanno i tecnici bisogna fargli rendere conto semplicemente dove dobbiamo andarli a far parare e di certo le due condizioni che noi vogliamo sono tempo di contatto a terra minimo massima quota di salto che riesco a correlare quindi il rapporto tra la quota di salto e il tempo di appoggio diventerà determinante perché meno sto per terra tanto più sarò veloce nella riproposizione la quota di salto deve essere massimale perché perché è dall'inizio di questa chiacchierata che ci diciamo tutto fuori bisogna essere al massimo della qualità che possiamo esprimere quindi il massimo delle altezze il massimo della spinta che possiamo organizzare il massimo dell'intensità guardiamo un po' quanti ne facciamo le ripetizioni sono determinate in secondi invece che in numero questo perché perché se io so tra normalmente dipende da quelle che sono le le pubblicazioni ma tra i 6 e i 10 secondi tutti gli autori sono assolutamente allineati e condividono il punto che in quel tempo di esposizione non accumuliamo acidosi non accumuliamo lattato io prendo il margine minimo per essere certo che tutti chiunque si vada ad approcciare a quel tipo di lavoro abbia sicuramente l'intervento della fosfocreatina e non di altre componenti metaboliche che non sono confacenti a quello che voglio come risultato quindi massima contrazione in termini di rapidità e altezza all'interno dei 6 secondi il recupero viene determinato in funzione a un rapporto qualitativo riconosciuto che sta tra 1 e 10 cioè quindi se lavoro 1 recupero 10 in rapporto quindi lavorando 6 secondi ne recupero 60 all'interno di questi 60 secondi pubblicazioni ci dicono in maniera indiscriminata che il ripristino della fosfocreatina arriva tra il 70 e il 90% cioè l'azione cosa fa mi metto in moto 6 secondi a tutto a fiamma al massimo delle mie possibilità deplezione del serbatoio della fosfocreatina fa boom giù tutto vuoto tutto fuori ho finito il carburante in 6 10 secondi all'interno del minuto successivo di riposo riesco a rifornirmi di energia specifica nel 70 90% di percentile quindi il mio serbatoio si riempie nuovamente del carburante da me prescelto per il 70 90% questo mi ripermette di fare nuovamente la performance in quei parametri massimali che io voglio fare quindi serie 6 secondi recupero un minuto seconda serie non sono al 100% totale o non ho recuperato al massimo però sono al 70 90% logicamente nel ripetersi delle serie quel 70 90% è in base a quanto è pieno il mio serbatoio e si esaurisce prima o dopo perché perché piano piano il carburante faccio 70 90% del carburante che ho a disposizione e quindi logicamente attendere la prestazione cala leggermente come faccio a determinare quando interrompo vedete bene 6 10 serie in funzione a che cosa? in funzione alla qualità cioè a quello che io vedo durante questi benedetti 6 secondi e in particolare se o a occhio la quota di salto si riduce o a occhio la quota di salto che si riduca bisogna avere un occhio abbastanza allenato per poterla verificare ma di certo se io conto i salti e i salti su 6 secondi iniziano a diventare sempre più numerosi la quota di salto si sta abbassando allora a quel punto lì sto andando ad allenare un'altra cosa che si fa? si interrompe normalmente si cerca normalmente diciamo che tutti gli atleti riescono a concludere 6 serie perché comunque 6 secondi di lavoro sono veramente brevi se vogliamo però anche facendo finta se io per sbaglio avessi qualcuno che è decondizionato non arriva neanche a quelle 6 serie allora mi dovrò fermare prima come faccio? guardando che cosa succede durante la prestazione se il numero di salti sale troppo anche sulla qualità di salto significa che il sistema nervoso centrale sta faticando e quindi a quel punto lì sto andando ad allenare un'altra roba non è che perché ho scritto che sono 10 serie e bisogna farne 10 stiamo su un allenamento qualitativo dobbiamo essere molto bravi a essere precisi nel momento in cui stiamo andando verso una deplezione quindi stiamo andando verso una ci stiamo inficiando le qualità massimali della prestazione dobbiamo smettere dobbiamo recuperare e cambiare perché? perché se non sconfiniamo nella resistenza alla velocità e altre situazioni che non sono in questo momento di interesse il recupero è assolutamente passivo perché? perché il recupero attivo ha ragione di essere unicamente se devo smaltire acidosi se devo smaltire lattato ma io non ne avrei dovuto accumulare se ho fatto le cose per bene e quindi recupero passivo fermo indagine sulla parte pliometrica indagine sulla parte di potenza che ha gli stessi identici parametri e peculiarità tempo di esposizione questo in funzione a quanta alla qualità di questo benedetto sprint quindi di quanta distanza percorro all'interno dei 6 secondi tanto più sono affaticato e questa distanza mi rendo conto che in 6 secondi è sempre più breve vuol dire che la potenza sta calando che faccio? fine perché? perché se no accumulo lattato se no vado ad allenare un'altra roba sconfinando dal punto di vista della velocità pura e andando molto più vicino a quella che è la richiesta sport specifica produco ho inserito questa questa qui è un atleta di questa beach tennis livello importante abbiamo bisogno di certo di una quoziente di essendo in un'abilità sport open skills di una condizione di agilità voglio che ci sia anche una abilità nella gestione del corpo in via più complessiva è ovvio che queste andature in scaletta saranno più lento di queste sprint in linea perché il compito è più difficile però se io mantengo gli stessi parametri sono certo di andare ad allenare nel miglior diciamo rapporto possibile anche l'agilità l'unico fattore che ho messo diciamo a coordinativo a ripetizioni e questo per due motivi uno che normalmente in realtà l'ideale forse sarebbe stato tre per lato però tre sei salti probabilmente in sei secondi sei dieci secondi li risolvo completamente di certo ho più o meno un numero di serie che probabilmente andrà piano piano depletere perché mi porta dietro un po' di affaticamento questo è un esempio facile di protocollo stabilizzato con parametri precisi dove andiamo ad allenare esplicitamente la velocità niente di particolarmente difficile tiene soltanto sotto controllo i parametri che stiamo indagando ormai da più di un'ora un'ora e mezza ok questa cosa qui fa già differenza farà già la differenza nel 90% no dai speriamo di no 70% dei casi che andate a ad allenare a mettervi a confronto con qualcun altro perché in pochissimi controllano e diciamo monitorano in maniera rigorosa questi parametri però se no teniamo sempre le situazioni in compartimenti stagni conosciamo la fisiologia il componente anaerobico e l'attaccio conosciamo l'anatomia e sappiamo che esistono le fibre bianche le fibre rosse e quant'altro conosciamo la forza la potenza conosciamo tutto però poi sul campo d'allenamento non lo monitoriamo e allora andiamo a inficiare tutte quelle che sono le nostre possibilità di fare incrementare la velocità anaerobico e l'atleta stesso perché perché siamo approssimativi nel combinare i parametri che in realtà noi conosciamo vi dico anche che ci sono situazioni anche più efficienti di questa in termini di protocollo e quindi di metodologia però questa è la più semplice e la più diciamo immediata se la coordini in una fase preliminare separata quindi in un altro giorno in un altro periodo in un altro tipo di condizione a un'attività di forza massima tu hai coperto tutta la gamma stai facendo il tuo mestiere per aumentare la rapidità la velocità dei tuoi ragazzi se come mi chiedeva prima samuele la la parte di forza non posso farla in un altro momento di certo dovrò metterla dopo di tutto perché perché se tra virgolette forzo il sistema imballo il sistema sotto il profilo neurale poi le prestazioni non saranno più massimali e vado ad inficiare tutti quelli che sono i parametri ok ragionate un attimo su questa cosa qui e poi se avete delle domande sono a disposizione intanto io tiro le fila abbiamo capito che il sistema è assolutamente complesso abbiamo capito che la forza massima è uno dei fattori anche se per certi versi è controproducente su quello che è l'obiettivo finale di certo abbiamo bisogno di un incremento pliometrico per andare a lavorare sulle componenti strutturali siamo indirizzati verso il ripristino della fosfocreatina per le parti metaboliche il rapporto lavoro-recupero non lo decidiamo noi lo decide la scienza volume seri diciamo tra le 6 le 10 perché in teoria verso le 6 ci arrivano quasi tutti ma se ci rendiamo conto che la qualità scade possiamo anche ridurre il 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 volume stesso se facessimo meno di queste 6 serie il volume complessivo di stimolo per ottenere l'aggiustamento e l'adattamento probabilmente non sarebbe sufficiente per far sì che ci sia una risposta in cronico da parte del corpo dei ragazzi il ritmo esecutivo non è neanche da parlarne velocità massimale massima spinta massima frequenza d'appoggio minor tempo d'appoggio al pavimento massima quota di salto tutto fuori sempre la scelta tecnica e questo lo vincete anche da questo protocollo deve essere portata su esercizi metodi mezzi molto semplici stabilizzati in maniera che il i ragazzi siano portati a concentrarsi unicamente a spingere al massimo tanto più mi sposto verso le componenti coordinativi quindi verso l'agilità tanto più la richiesta coordinativa si alza è evidente come fare uno sprint in linea sia coordinativamente più semplice rispetto a una fase di un'andatura in scaletta o cinesini o quello che vi viene in mente ma è altresì evidente come nella parte di agilità probabilmente sono più lento rispetto alla componente di potenza quindi all'aumentare della richiesta coordinativa si riduce il quoziente di intensità che io vado ad esprimere quindi per allenare un soggetto a un'implementazione di rapidità deve farlo su una condizione conosciuta stabilizzata su un modello che conosce bene registrato nella sua testa che sa fare bene un gesto che conosce molto bene in questa condizione possiamo applicare e il soggetto può concentrarsi unicamente a fare tutto fuori senza dover mediare pensando a quello che deve fare tecnicamente ok questo è il diciamo un lavoro metodologicamente stabile based evidence cioè sostenuto da componente di tipo scientifico per quanto riguarda l'allenamento alla velocità logico che approfondirò e andrò a far calzare in maniera sempre più vicina puntuale precisa in relazione a quella che è lo sport di mio interesse quindi spostandomi molto di più sulla parte dell'agilità se faccio uno sport open skills se invece mi fermo su un quoziente diciamo più di performance mi fermerò prima e lavorerò molto di più sulle componenti strutturali e sulle componenti di potenza come vi dicevo questa modalità questo metodo è abbastanza il più facile da applicare ne esistono di più difficili e più efficienti che determinano però si costruiscono fondamentalmente sugli stessi parametri non è che c'è molta differenza ci sono delle peculiarità differenti che possono essere chiamate in causa noi abbiamo visto una una condizione dedicata al treno inferiore ma si fanno lavori sulla stessa condizione sullo stesso tipo di principio anche sul treno superiore quindi la velocità di lancio quindi la i lanci anche magari torsivi sul sul treno del core che ovviamente trasduce quindi se parliamo di lancio del treno superiore sappiamo che la spinta normalmente arriva dalle anche viene portata verso il treno superiore dal centro e si esprime soltanto in maniera distale col braccio se qualcuno di voi fa sport da combattimento pugili quant'altro sappiamo bene che l'impatto deriva dalle anche quindi essere capaci di allenare la potenza e la rapidità la quickness anche a carico del del tronco del core di certo è un fattore positivo forse addirittura ho anche qui un modello al volo si l'avevo aperto alcune questo è un progetto sul core stability sulla rapidità e sulla potenza fatto appunto in direzione di lavori torsivi che soddisfano i parametri che che ho determinato di cui abbiamo discusso fino adesso il programma vedete complessivamente si focalizza anche su altre cose perché la prima parte è sullo sprint e spostamento e l'altra parte ancora è sulla potenza degli arti inferiori però il il principio è lo stesso che soddisfa questi parametri sotto tutti i punti di vista e vabbè ha delle altre peculiarità perché ripeto segue in particolare è un metodo un po' più avanzato e segue altre altre logiche un po' più complesse domande dubbi perplessità avete un po' l'idea un po' più chiare su come affrontare magari qualcosa inerente a questo tema spero di sì qualcuno di voi mi ha fatto anche delle domande è logicamente esatto bisogna poi anche un po' rinforzare studiandosene no? digerendo un po' il tema perché purtroppo è ripeto una cosa complessa ed è difficile quindi essere bravi a interpretare e analizzare e a studiare stabilizzare bene quello che è un metodo di certo ci può dare delle 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 peculiarità e un aiuto sotto il punto di vista dei risultati poi ovvio che si potrebbe andare ad analizzare ancora più nel dettaglio ma non è questa la sede prendiamola come infarinatura generale sappiamo che si può fare ancora meglio però almeno ci indirizziamo sulla strada corretta da che età si inizia ad allenare la velocità? la velocità in termini ovviamente parametrando in particolare sulla condizione di forza che devi essere molto accurata nella scelta della 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 capacità di espressione di forza quindi sai in certi casi soprattutto se parliamo di ragazzi molto giovani anche l'allenamento corpo libero ad angolo chiuso può essere già uno stimolo di forza adeguato però la velocità si può allenare praticamente da subito fai attenzione nelle fasi di sviluppo quando vai a lavorare sulle cozzenti tendine perché lì lo sappiamo che bisogna avere un po' di qualità perché se tu esageri sul volume tendineo in alcuni frangenti diciamo che nella parte prepuberale cioè siamo 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 un po' al limite perché i siti delle ossa non sono ancora fissati per bene e puoi rischiare di creare infiammazioni tendine ma lavorando bene sotto il profilo dei volumi sotto il profilo del quantitativo di stimolazione puoi fare già dei lavori ok quindi tieni conto del quoziente di tipo strutturale questo è importante poi diciamo che dall'età onestamente puberale 16 17 18 anche se in realtà non sei fuori dal sovraccarico funzionali tendineo si inizia a lavorare in maniera ancora più massiva però diciamo che anche prima è un buon è un buon tipo di lavoro certo che magari prima sai dove puoi andare a parare per avere poi un vantaggio quando le strutture saranno pronte lavorare bene sulle componenti cognitive di cui abbiamo parlato la parte precedente in particolare se parliamo di uno sport open skills perché tanto più sei bravo coordinato veloce hai una piattaforma solida sotto il punto di vista della rete neurale tanto più poi avrai un vantaggio quando andrai ad applicarla su quello stimolo di tipo specifico questo potrebbe anche essere una tattica interessante ovviamente generalizzando senza avere puoi parlare senza puoi parlare di età biologica o età anagrafica va bene perfetto grazie a te se ci sono poi delle domande che vi insorgeranno qualcuno ha anche scritto e non c'è problema cerchiamo di abbiate solo un po' di pazienza perché arrivano un po' di domande ogni tanto e ci vuole un po' di tempo anche per me per smazzire però cerco di rispondere a tutti ragazzi vi ricordo prossima settimana importante la call per i dettagli su quella che è la prova in itinere perché è di vostro interesse ve lo dico per voi cercate di essere presenti perché vorrei dirla una volta per tutti quali sono i parametri e chiarirli per tutti quanti rispondi alle domande perché poi sarà una prova riproverei su Webex la prossima settimana anche perché tra l'altro non credo di avere niente da condividere poi tra l'altro solo oggi ci ha lasciato nel caso in cui ci fossero dei problemi che attanagliano andate a guardare su Moodle fatevi un giretto su Moodle giusto per essere sicuri e sincerati ma rimarrei sulla parte canonica ok? bene se non c'è altro se non ci sono altre questioni se non ci sono altre domande io vi saluterei vi congederei e ci vediamo la prossima settimana grazie buona giornata a tutti a presto arrivederci buona giornata buona giornata grazie a tutti